Poi, ciao ragazzi, pure i miei vicoli sono elementati sullo stato sociale di lui che ha la terza vecchia, ma che vuol dire, se stai bene? Poi, ciao ragazzi, pure i miei vicoli. Il primo dicembre, poltrono sofà, autentica qualità. Immagini trascorrere un Natale in Lapponia, con la nera e... Et voilà, finito.